Alcuni dei giochi più attesi e apprezzati dell'ultimo anno sembrano essere stati esclusi dalle principali categorie dei premi dell'industria videoludica. Black Meat Wukong e Stellar Blade, titoli che hanno suscitato grande interesse tra i giocatori, non hanno ricevuto nomination significativa ai Golden Joystick Awards, suscitando domande tra appassionati e detti lavori e, per essere più precisi, tra i due solo Wukong ha ottenuto qualcosa. Prima di approfondire vi ricordo che potete seguirmi sul mio canale Telegram News, trovate il link in descrizione. È un modo semplice per rimanere aggiornati su tutte le novità nel mondo dei videogiochi e sulle mie prossime pubblicazioni. Black Meat Wukong, sviluppato dallo studio cinese Game Science, ha attirato l'attenzione globale grazie ai suoi trailer assurdi e al gameplay ispirato alla mitologia orientale. Nonostante l'hype e le aspettative elevate, il gioco non è stato incluso nelle categorie principali dei Golden Joystick Awards, tranne che per la categoria Best Visual Design. Molti si chiedono il perché di questa esclusione, considerando l'entusiasmo generato dalla community. Ma che cos'è esattamente i Golden Joystick Awards? I Golden Joystick Awards, noti anche come People's Gaming Awards, sono una delle cerimonie più importanti nel mondo dei videogiochi e si tengono ogni anno a Londra. Nati nel 1983, sono la seconda premiazione più antica dedicata ai videogiochi. Dopo gli Arcade Awards, inizialmente premiavano solo i giochi per computer, ma con il tempo hanno esteso i riconoscimenti anche ai giochi per console, come è giusto che sia. Le caratteristiche principali di questi premi è che le categorie, incluso il famoso gioco dell'anno, vengono decise attraverso i voti del pubblico online. Questo sistema di voto ha reso i Golden Joystick Awards molto popolari, con un record di 10 milioni di voti espressi nel 2013. Anche se il pubblico vota, gli eventi in presenza sono riservati agli addetti ai lavori e ai professionisti dell'industria. Ecco quindi che ci poniamo ulteriori domande sull'esclusione di Black Meat Wukong. Parliamo di un titolo che in tre giorni ha venduto milioni e milioni di copie, se ne è parlato in tutto il mondo e tuttora si continua a parlarne. Un raro caso di come un titolo single player, prodotto dal nulla, sia stato capace di infilarsi in un mercato feroce come cura delle console e del PC, regalando ore e ore di avventure in una mitologia che non ci appartiene ma ci affascina. Allo stesso modo, Stellar Blade, sviluppato dallo studio sudcoreano Shift Up, ha ricevuto elogi per la sua grafica dettagliata e un gameplay old school. Anche questo titolo, atteso con impazienza da molti giocatori, non ha ottenuto nomination. La mancanza di riconoscimenti ha sollevato discussioni sul processo di selezione dei premi e su quali criteri vengano effettivamente utilizzati. Qui, ovviamente, il dibattito è vecchio come il mondo, in un susseguirsi di accuse sulla sessualizzazione del corpo femminile, cosa che ha fatto infuriare i giornalisti a tal punto da mettere in secondo piano l'identità stessa del titolo. Una tematica ridondante e davvero povera per quanto riguarda il risultato finale. C'è chi sostiene che questi giochi siano stati penalizzati a causa di dinamiche interne all'industria o di differenze culturali. Altri suggeriscono che potrebbero essere stati trascurati in favore di titoli più noti o supportati da campagne di marketing più aggressive. Tuttavia, non ci sono dichiarazioni ufficiali che spieghino le ragioni precise di queste omissioni. È interessante notare come questa situazione ricordi quanto accaduto con altri titoli in passato. Ad esempio, Hogwarts Legacy ha affrontato polemiche e discussioni che potrebbero aver influenzato la sua presenza nei premi. Questo solleva dubbi nei giocatori sul ruolo dei premi nell'industria e su come vengono valutati i videogiochi. Alcuni appassionati sostengono che i premi dovrebbero riflettere le preferenze dei giocatori, coloro che effettivamente investono tempo e risorse nei videogiochi, piuttosto che basarsi esclusivamente sulle decisioni di giurie o comitati. Iniziative come The Real Game Awards stanno emergendo proprio con l'intento di dare voce diretta alla community, permettendo ai giocatori di nominare e votare i loro titoli preferiti senza interferenze esterne. Una cosa curiosa è vedere come il Divers 2 non sia presente nella categoria PC Game of the Year, quando nei mesi di gennaio e febbraio, guardando Steam, penso che non si giocasse ad altro, ma è una cosa da giocatori e non da addetti all'industria. In un mondo videoludico in continua evoluzione è fondamentale che le voci dei giocatori vengono ascoltate e che i titoli innovativi e meritevoli ricevano il riconoscimento che aspetta loro. Solo così si potrà garantire un panorama videoludico equilibrato, dove la qualità e l'originalità vengono valorizzate. Detto questo, la palla sta a voi. Quali sono per voi i giochi meritevoli di vincere tale riconoscimento quest'anno? Se questo argomento vi interessa e volete rimanere aggiornati su tutte le novità, vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare un like e se desiderate supportare il mio lavoro potete dare un'occhiata al mio merch. Ogni contributo aiuta a mantenere viva la discussione e a promuovere una community informata e appassionata. Grazie mille per il vostro tempo. Io sono RoboGin e noi ci vediamo sul campo. Grazie mille per il vostro tempo.